Travaglio, mentre scoppia la guerra dei brevetti, il commissario Figliolo, ovvero il governo Draghi, oggi annuncia che da lunedì prossimo si potranno vaccinare anche i cinquantenni. Tu però oggi hai titolato i 500.000 vaccini, sono durati due giorni. Ma il governo tecnico sta giocando con i numeri? Eh ma è questo, dicono i numeri. Il 29 aprile 522.000, il 30 aprile 518.000, poi siamo riprecipitati il 1 maggio a 427, il 2 maggio a 366, il 3 maggio a 394, il 4 maggio a 403. Noi per sapere se la campagna vaccinale sta andando forte o sta andando piano, ci dobbiamo basare su due parametri. Il primo, che cosa ci è stato promesso? Qual è l'impegno che ha preso il governo e il commissario Figliolo? Secondo, cosa stanno facendo gli altri paesi grossi come il nostro in Europa? E allora, il primo parametro... Sono più o meno come noi, Marco. No, sono tutti davanti a noi, la Germania fa il doppio di vaccini di noi. Ma aspetta, ti voglio dettagliare. Allora, l'impegno preso era più di 500.000 vaccini al giorno nella seconda metà di aprile. Nella seconda metà di aprile ne abbiamo fatti una media di 350.000, il che vuol dire che negli ultimi 20 giorni ne mancano 150.000 al giorno, cioè 3 milioni di vaccini in 20 giorni. Per due soli giorni in 20 giorni si è superata la soglia dei 500, che dovrebbe essere stabile, perché non è che Figliolo ha detto lì supero, vinco il premio e poi torno a 400. Troppo comodo. Devono essere fissi perché l'impegno venga rispettato. E poi bisogna vedere cosa fanno gli altri paesi. E dove eravamo noi rispetto agli altri grandi paesi d'Europa prima che arrivasse questo governo e il generale Figliuolo. Eravamo primi per tutto il mese di gennaio. Vabbè, ma è un'altra epoca geologica però. No, 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 ma lascia fare, lascia fare. Nel mese di gennaio l'Italia era il primo dei grandi paesi europei per 20 giorni davanti a Germania, Francia e Spagna. Adesso è quarto su quattro. Domanda, era proprio necessario cambiare in corsa il commissario visto che quello precedente stava vincendo? Squadra che vince non si cambia. Secondo me sono stati fatti due errori. Il primo, quello di promettere cose che non si possono mantenere perché sappiamo benissimo che il numero dei vaccini fatti dipende dal numero dei vaccini arrivati. E fino a quando non avremo un numero sufficiente di vaccini arrivati non c'è fenomeno che sia in grado di moltiplicarli. Secondo, cambiare in corsa la squadra che stava vincendo. Quindi mi dispiace ma su questo abbiamo perso due mesi. Abbiamo perso due mesi, lo chiediamo a lei che è la più esperta di tutti. Io credo che il modo migliore per vedere come sta andando la campagna di vaccinazione sia vedere le dosi che abbiamo utilizzato. La percentuale di dosi utilizzate rispetto a quelle ricevute è molto alta. Travaglio sarà d'accordo con me, si va dal 90% all'80% più o meno sulla media nazionale. Quindi vuol dire, come diceva appunto Travaglio, che il numero di vaccinazioni che si fanno dipende dal numero di dosi che riceviamo. Però quello che è importante dire è che le dosi che arrivano vengono utilizzate. Quindi senza entrare nella polemica di meglio uno, meglio l'altro, quello che posso dire al momento è che le dosi che noi stiamo ricevendo le stiamo utilizzando. Quindi... E certamente non possiamo usare le dosi che non abbiamo. Non è una polemica, sono i numeri. Certo, no, no. Se uno non è in grado di raggiungere un traguardo non lo promette e se lo promette e non lo mantiene deve scusarsi per avere fatto della bieca propaganda quale è stata fatta nell'ultimo mese. Io su questo non commento, semplicemente appunto tengo a dire che al momento l'Italia sta usando bene le dosi che arrivano. Ovviamente non possiamo usare le dosi che non abbiamo. Che non ci sono. Però quelle che arrivano sono utilizzate. Questa è l'unica cosa che ci deve interessare in questo momento. È l'unica cosa che ci deve interessare. Fabio Volo e...